Amiche ed amici di Pachino Cam News, benvenuti come sempre. Oggi incontriamo Gianfranco Scrofano, un giovane ragazzo di Pachino, reddice da una vittoria a Massala, dove ha ottenuto lo Startup Weekend di Google. E quindi oggi ci parlerà di un'iniziativa importante per Pachino, giorno 20 febbraio. Anche le aziende di Pachino e dintorni potranno conoscere il mondo Google e di investire grazie a questo colosso tecnologico. Gianfranco, raccontaci un po' Marsala e l'invito per Pachino. Sì, grazie Ivan. Abbiamo partecipato lo scorso settembre allo Startup Weekend di Google a Marsala, in cui abbiamo vinto, lanciando un trovalavoro per immigrati. Questa competizione ha dato l'inizio di nuovi incontri con personaggi del mondo Google. Da lì ho conosciuto un pochettino tante realtà che si occupano di Startup, in cui siamo inseriti anche noi, quindi a Palermo e a Catania. E a Catania ultimamente ho conosciuto Google Business Group, di cui faccio parte. Con loro stiamo organizzando a Pachino, il giorno 20 febbraio, il primo corso per aziende, quindi Google for Business, per spiegare a tutti il pacchetto completo di Google, quindi G Suite, Google Plus, Google My Business. È uno strumento fondamentale adesso Google, e quindi è giusto che se ne deve parlare. Ci sarà questo corso, che sarà il primo. Il secondo riguarderà Facebook ed Instagram, quindi rivolto a tutti, non solo aziende, ma anche queste nuove figure che stanno nascendo, dei food blogger, dei fashion blogger, dell'influencer, e quindi l'invito è rivolto a tutti, anche a te Ivan, perché tu rientri come influencer, quindi... Ah, io sono un influencer! Sei proprio un influencer! Grazie! Che non è una brutta cosa, diciamo, va bene. E quindi, niente, questo è quanto. Il corso si terrà il 20 febbraio, e ci sarò io come esperto Google, ma ci saranno anche dei facenti parte, ecco appunto, del direttivo di Google Business Group. E' molto importante esserci, perché adesso uno si deve muovere, questa è l'epoca di internet appunto, e quindi uno si deve muovere bene su Google, utilizzare bene gli strumenti. Quindi non rimane altro che prenotarsi, o comunque per maggiori informazioni, telefonare al numero che si sta guardando in questo momento in zona impressione, e partecipare a questo corso appachino per far parte del mondo Google, per tutte le aziende e i direttori di marketing. Perfetto. Grazie Giancranco, e ancora auguri per la tua vittoria ammassata. Grazie, grazie.